Buongiorno a tutti, oggi propongo questo nuovo esercizio in cui abbiamo un'equazione di quarto grado, però questa equazione di quarto grado è un'equazione sicuramente particolare e adesso andremo a vedere perché. Allora essenzialmente gli esponenti di questa equazione di quarto grado sono 4 e 2, gli esponenti della nostra incognita x. Però vediamo che sono assenti tutti gli esponenti dispari, cioè i coefficienti dell'incognita x alla terza e x alla prima sono 0. Capite bene che qui non c'è scritto perché 0 è l'invariante dell'addizione, però se avessimo voluto scrivere l'equazione presentando tutti i termini della x, avrei potuto scrivere più 0x alla terza più 0x. Allora in questo caso, cioè questo tipo di equazione prende il nome di equazione trinomia di quarto grado. Ci sono tre termini ma è un'equazione di quarto grado e tutte le volte che avrete un'equazione di questo tipo dove si presenta solo il termine x alla seconda x alla quarta, diciamo c'è un modo abbastanza semplice di risolvere questo tipo di equazioni. Allora in questo caso quello che consiglio è di fare, di attuare una sostituzione. Cioè se noi chiamiamo x alla seconda x alla seconda uguale t, quindi usiamo una variabile di appoggio, la nostra equazione diventerà 4t alla seconda meno 25t più 36 uguale a 0 e questa, la riconoscete bene, è un'equazione di secondo grado. Quindi con questa semplice sostituzione siamo riusciti ad avere un'equazione di secondo grado. Diciamo che per meglio rendere l'idea essenzialmente io questa equazione 4x alla quarta meno 25x alla seconda più 36 l'avrei potuta riscrivere come 4x alla seconda tutto alla seconda dove x alla seconda è proprio il nostro t più, anzi scusate, meno 25x alla seconda dove x alla seconda è proprio il nostro t più c'è un termine noto uguale a 0. Quindi in definitiva verrà 4t quadro meno 25t più 36 uguale a 0. Allora andiamoci a calcolare subito il discriminante di questa equazione. Allora, il discriminante ricordo essere b quadro meno 4ac, b è meno 25, quindi meno 25 al quadrato meno 4 che moltiplica 4 e 36. Allora in questo caso 25 alla seconda è 625 e 4x4 16 per 36 è 576 e ottengo che il nostro discriminante è proprio 49, quindi è anche maggiore di 0. Ricordo che il discriminante maggiore di 0 significa che ci sono due soluzioni distinte. Avremo una soluzione t1 e una soluzione t2. Andiamo a risolvere questa equazione di secondo grado in t1 e 2 dove ricordo che per risolverla insomma l'equazione risolvente è meno b più o meno la radice di delta tutto fratto 2 volte a e in questo caso meno b è 25 più o meno la radice di 49 tutto fratto 8. La radice di 49 è proprio 7 quindi 25 più o meno 7 ottavi e a questo punto possiamo trovare le due soluzioni t1 e t2. Ovviamente io come soluzione 1 vi consiglio sempre di mettere quella la soluzione più piccola quindi 25 meno 7 fratto 8, 25 meno 7 è 18, 18 ottavi e 9 quarti, 25, 7, 32, 32 ottavi e 4. Allora adesso quello che ci rimane per risolvere le equazioni di partenza è andare a fare un piccolo ragionamento sulla sostituzione che abbiamo fatto. Cioè noi abbiamo detto che t1 è uguale a 9 quarti ma ricordandoci che t è uguale a x alla seconda sappiamo che x alla seconda è 9 quarti ma se x alla seconda è 9 quarti allora x sarà più o meno la radice di 9 quarti quindi segue che x è uguale a più o meno la radice di 9 quarti ma la radice di 9 quarti ma la radice di 9 è 3, la radice di 4 è 2 e quindi è più o meno 3 mezzi. La soluzione t2 per la quale abbiamo il valore 4 analogamente sappiamo che t è pari x alla seconda quindi x alla seconda è 4 da cui segue che x è uguale a più o meno la radice di 4 ed è più o meno 2. Allora in questo caso abbiamo trovato le quattro soluzioni le equazioni di quarto grado ovviamente un'equazione di quarto grado avrà fino a quattro soluzioni distinte e in ordine le soluzioni sono meno 2 meno 3 mezzi 3 mezzi e 2. Io vi ringrazio per l'ascolto se avete richieste particolari particolari potete lasciarle nei commenti se vi è piaciuto il video lasciate mi piace e iscrivetevi al canale vi ringrazio vi auguro buona giornata